Prima la consegna delle benemerenze, poi l'aperitivo, i giochi, gli spettacoli e la mostra dedicata. Quella per i 60 anni dell'Avis, seppur in ritardo di due causa Covid, sarà una vera e propria festa. L'associazione è ben presente sul territorio con oltre 2000 iscritti e fornisce all'ospedale di Pescara più del 50% del fabbisogno di sangue e plasma. Non possiamo non sostenere l'Avis perché svolge un ruolo fondamentale nella nostra città per aiutare le persone che soffrono e di ausilio all'ospedale perché oltre il 50% del sangue utilizzato all'ospedale viene da donatori dell'Avis. Quindi noi ringraziamo i donatori e ringraziamo i volontari, tutto un mondo che ruota attorno alla solidarietà e che a Pescara è sempre molto attivo. Ogni volta che l'Avis ci chiama ci siamo e continueremo a esserci. È fondamentale ancora diffondere la cultura della donazione del sangue perché noi cerchiamo di svolgere tutte le attività possibili per avvicinare i giovani a noi, però c'è da fare un altro tipo di lavoro, quello della cultura che parte dalle scuole, parte dalla società e parte anche dall'istituzione come il comune stesso. Io dico sempre che noi siamo un popolo di altruisti, ecco c'è un'emergenza che può essere il terremoto, può essere il Covid e rispondiamo subito alla chiamata dell'emergenza. Abbiamo proprio questa vocazione, dico io. Poi è difficile purtroppo mantenerli perché uno pensa sempre a un discorso culturale, che l'emergenza, il bisogno del sangue sia legato solo all'emergenza stessa del Covid o del terremoto in questo caso. Mentre purtroppo ogni giorno esistono delle emergenze che portano nomi differenti, terapie che vengono effettuate con la trasfusione di sangue ho tante postoperazioni che hanno bisogno di trasfusioni costanti di sangue, perciò abbiamo ancora tanto da fare sotto questo punto di vista. Il bello di essere donatore di sangue è che si è sempre sotto controllo, perciò un donatore di sangue per noi che è sotto controllo da ogni punto di vista è il candidato perfetto per poter donare sangue ed è un controllo anche per chi riceve il sangue fondamentalmente. Siamo lontani dai vecchi preconcetti della donazione del sangue, c'è tutta una tracciabilità, un controllo e una lavorazione del sangue. Grazie a tutti.